Allora, vediamo subito il secondo capitolo. Il secondo capitolo parla delle emozioni nel trading. Allora, prima di tutto c'è una descrizione di cosa sono le emozioni, del fatto che il trading significa pensare, quali sono gli strumenti del trader di successo e qual è il ruolo dell'analisi tecnica e dell'analisi fondamentale, come prepararsi per riuscire, che lo studio e appunto la competenza è un fattore fondamentale, quindi che la passione, bisogna avere passione per questa materia, se no non si riesce ad andare avanti, che non c'è nessuna certezza nei mercati e come acquisire appunto una mentalità vincente. Che cosa fanno in particolare i trader vincenti, come entrare correttamente a mercato e le nostre percezioni sulla realtà. Quali sono le opportunità migliori? Quando dobbiamo prenderci una pausa nel trading, perché non è detto che dobbiamo investire per forza tutti i costi ogni giorno. E comunque che il passato non deve intralciare il nostro futuro, bisogna sviluppare l'istinto, quindi come poter fare per sviluppare l'istinto. E il capitolo 2, diciamo, parla appunto di tutte queste cose qui. Per esempio, il capitolo 3. Grazie.